Con delibera 297 dell'8 aprile scorso del commissario straordinario dell'Asla Salerno, Mario Iervolino, è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento della fornitura di apparecchiature per le sale operatorie del presidio ospedaliero di Agropoli. L'importo complessivo della fornitura è pari a 509 mila euro, IVA esclusa, e comprende tra gli altri l'acquisto di colonna per la paroscopia 3D, apparecchio per lavaggio e disinfezione, apparecchio per anestesia, tavolo operatorio, due ventilatori polmonari, di cui uno da trasporto, elettrobisturi, lampada ascialitica. Dopo la ristrutturazione delle sale operatorie, afferma il sindaco Coppola, che è stata conclusa nelle scorse settimane, è partito nei giorni scorsi a cura dell'Asla Salerno l'appalto per attrezzarle. Procede quindi il percorso iniziato da alcuni mesi con l'obiettivo di rifunzionalizzare il presidio sanitario, al fine di portarlo ad essere un pronto soccorso medico H24. Si attende, al fine dell'estensione della funzionalità dei servizi di laboratorio analisi e quello di radiologia, per portare l'operatività da H12 ad H24, l'arrivo di nuovo personale. La struttura è pronta e le attrezzature ci sono per entrambi i servizi, ma mancano i tecnici. Una carenza, purtroppo, quella relativa al personale, che risulta cronica per la maggior parte, se non di tutte le strutture ospedaliere campane.